Ciurma! Benvenuti! Di nuovo nella serie del parkour con penitenze dove la chat qua sotto interagisce con me tramite le donazioni o le sub e mi fa smadonnare nel parkour. Adesso ci sono le penitenze, già con 100 bit mi portano al checkpoint con una sub, gratis anche col prime, mi porto indietro di un altro checkpoint e si inizia. 3 e 2 e 1, let's go! Ok, sembra tutto pulito, sembra tutto easy. Primo checkpoint fatto. Raga, una sciocchezza, una sciocchezza. Ma siamo già al terzo! Mamma? Mamma? Mamma perché? Perché io sono 3, 3, 3, 3... Alex, grazie mille per i 10 mesi di... Alex, grazie per i 10 mesi! Foxy, grazie mille anche a te per i 27. Ma non fa male sto coso! Ma... non fa male! Scusa! Ragazzi, mi ha abrasato! Mi ha resettato! Mi ha riavviato! Raga! I warden, ragazzi, ti resettano! Ok, ok! Bonk! Olè! Easy! Easy! Pulito! Pulito! Raga, già checkpoint numero 5 su 40. Siamo già a un ottavo della mappa. Qua si passa easy. Da posto! Raga, un mostro! Ma un mo... Raga, la faccio senza una mano! Troppo semplice! La faccio senza una mano! Oh, oh, oh! No! Senza una mano! Senza una mano! Mano in testa! Mano nella cavezza! Olè! 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 Il giullare di corte! Olè! Olè! Sdunk! Olè! Oh! Senza una mano! Senza una mano! Oh! No! Oh! Raga, un mostro! Oh, senza una mano! Senza una mano! Opla! Raga, siamo a un quarto della mappa! La mappa è piccolina! Raga, la mappa è veramente... C'è piccola! Ora, parliamone! Nella media! Nella media, eh! Nella media! Piccolina di certo no! Nella media è anche... Basta! Cioè basta alla fine saperlo usare come si deve questa mappa! Ok? Va bene! Va bene, va bene! Ma non è un problema! Non è un problema! Si fa easy tutto! Let's go! Bonk! Olè! Guarda, guarda! Mamma mia! Un treno! Mi sono schiantato tantissimo ragazzi! Oh! Giù! Mamma mia! Slalom tra gli alberi! Dentro Mamma mia Guarda guarda Il prodigio In mezzo alle ossa Ho sbattuto Sono morto Perfetto No 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 Dark Dark Io ti voglio tanto bene lo sai E ti ringrazio per questi 200 bitarelli Sì Ce la posso fare Ok Ora non mi ferma più nessuno Un treno Un treno Chiamatemi Emerald Freccia Rossa Sono io Sono il Freccia Rossa 69 Le Mao Olè Mamma mia Guarda guarda Faccio anche il giro In questa Tramite questa colonna Così proprio Circo navigata Stuc Fatto Visto Mamma mia Oh comunque Questo livello delle litra Allora Va bene Va bene No 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 Io ragazzi Non perderò la pazienza Sono un Emerald Sono un Emerald Cambiato ragazzi Sono un Emerald Ragazzi Sono un Emerald Cambiato Ok Non perderò più La pazienza In queste cose È un gioco È Minecraft Sono blocchi colorati Cioè uno non si può arrabbiare Per Minecraft Dai Visto Easy Perfetto Perfetto si parte Ma mi ha tolto Fratello Ma che Che cos'è qua Ho le colonne napoletane Qui che Che i cerchi napoletani Che mi scammano le litra Bello pulito Dove essere ragazzi Bianco e azzurro Questo cerchio Non bianco e giallo Ma 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 Bam Raga un mostro Ma dove E lì si finisce Si atterra Che maestria Magica pula Fermi tutti ragazzi Non siamo più nel Nel deep dark Ma siamo invece in Fungo Ok Livello fungo Allora Il fatto sapete che cos'è Che questo livello Dell'elitra Mi piace ma talmente Tanto Ma così tanto Ragazzi Che quasi quasi Ho voglia di rifarlo Ho voglia di rifarlo Mi piace Ma che bello Guarda si gira Si sale Da posto bro No 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 Ma 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 L'avete visto L'avete visto Zoom Zoom Ecco Me le ha tolte Ora lo facciamo in F5 Oh No Chi è Chi è questo Chi è questo Oh Lo zio rei Grazie mille rei misterio Grazie mille Lella Ah Non è lei lella No No E' stato proprio ragazzi Momento Bonk Rega qua Un fall Vabbè rega Qua è easy Ma ho di nuovo L'elitra Non ho più l'elitra Nooo Ho di nuovo l'elitra Il fatto è che sto livello È lungo Quindi io devo essere veloce A finirlo In modo che voi non mi fai tornare subito indietro Perché se no È finita E ogni volta Sarà soltanto È l'elitra simulator Dov'è arrivare subito a quel checkpoint Instant No No Oh Sono qui Sono qui Sono qui Sono qui No 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 Tigre Ma potevi start Perché la tigre È più forte del leone Olè Subito 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 Dove prendere quel checkpoint Veloce Velozie Sì Ah Niente più l'elitra simulator Raga Suga Perfetto Bene Ah E ora si va Belli puliti puliti Raga ma Siamo quasi a metà mappa Siamo quasi a metà mappa Attenzione Cioè qua finiamo Tra 15 minuti È finita Bonk Olè 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 Bello pulito Minchia raga Come mi sa Come l'ho missato No 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 Fiorla Grazie per i quattro Gentilissimo Gentilissimo Perfetto Bello pulito Mamma mia Raga Non mi ferma più nessuno Sono Trenino Emerald C'è il trenino Thomas La canzoncina Oh Non ho capito C'è qualcosa di strano Distorto Perché mi porti indietro Perché mi porti indietro Bro Mi scusi Oh No Quelle È È È È tipo mezzo broken Raga È tipo mezzo broken C'è non so Mi porti indietro Quel coso E devo arrivare a quel checkpoint E no raga Dove fare l'increativa Sta parte Dove fare così Per forza Sono qua Mi porti indietro la mappa Devo schippare questa parte E me lo faccio così Che devo fa È appurato che è un bug Sicuro Olè Tanto dai Abbiamo soltanto saltato Tre checkpoint C'è sta scena Raga Vabbè ma il resto è Comunque è tutto semplice La mappa Oh no c'è di nuovo Eh Allora diciamo che È come se fosse Una peritenza in più Questa cosa Però Raga Killato lo stesso Ok Ci piace E quindi C'è la cavalla Stato Oh qui No 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 Aspetta Olè Rigiro Inversione di marcia Bonk Ok Ok ci siamo Ultimo livello Ultimo livello Sono le nove Neanche e mezza Secondo me sei minuti Abbiamo finito Easy Che devo fare Oh Ma Che si muovono così È tipo Subwave Surf Oh va che figata Però vabbè È letteralmente Una minchiata Siamo già arrivati Olè Però alla fine È easy Ok Ah Ma che ci vuole Allora mancano A parte le abbiamo fatte Ragazzi Veramente In Niente No 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 Non va bene Non va bene Questa cosa Much 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 Later Oh Oh Eccoci qua Raga Siamo solo degli autobus Adesso No Non mi dire di nuovo No raga di nuovo lui Si può fare Ma è la cosa più veloce di questo mondo Dove essere bravo Raga Fatto 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 Perfetto Emerald contro la mappa Ha vinto Emerald Raga manca l'ultimo checkpoint Che in realtà non so proprio 40 Forse sono 41 Olè Olè Mi ha tolto le litre di nuovo Olè Dovamo Droppare questi razzetti Ne ho troppi Olè Olè No Siamo ancora in volo Olè Olè No L'ho finita Siamo ancora in volo Siamo ancora in volo